Il primo piano Molise Incidente sulla piattaforma Eni muore operaio molisano Egidio Benedetto, 63 anni di Montenero di Bisaccia Manovrava la gru crollata su una nave di rifornimento Il suo corpo trovato all'interno della cabina che si è inabbissata Ferite ma non in pericolo di vita altre due persone La tragedia ieri mattina a 60 km dalla costa La procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo Il punto a firma di Rita Iacobucci parla delle liste d'attesa E della sfida impegnativa che non si può evitare Vinchiaturo, riesumata alla salma L'autopsia conferma stroncato da una scarica elettrica nel giardino dell'amico La cerimonia alquerinale che ha visto la premiazione di suore Elvira Tutolo, primata da Mattarella in prima linea in difesa dei bambini e dei ragazzi di strada Sanità, ricorso contro i commissari, oggi l'udienza al TAR Campobasso, scippo nel centro storico, presi due sedicenni Palazzo San Giorgio, candidato sindaco del centro-sinistra L'ipotesi primaria prende forma Via Libera al DEF, il governatore Toma traccia la rotta per i prossimi tre anni Poi c'è lo sport, con la Serie D L'Agnone si fa sentire, dossier sulla scrivania del designatore Eccellenza, mercoledì con tre recuperi per il vasto girare di una gara capitale Coppa Italia, il Treppini Matesi alla ricerca dei quarti contro la Miternina Ed ora il quotidiano del Molise Operaio Molisano muore in un grave incidente in mare Il crollo di una gru su una piattaforma Eni per l'estrazione di gas E' stato fatale ad Egidio Benedetto di Montenero Disgrazia in Adriatico, a largo di Ancona, ci sono anche due feriti Giudiziaria omicidio Pecorelli Dopo 40 anni il caso viene riaperto Manovra finanziaria, la Giunta approva il documento economico Sono due adolescenti, gli autori dello scippo Ai danni di una donna in via Ziccardi a Campobasso Fortore, decreto sviluppo per la Capitanata Il Lago di Occhito, tra i progetti, tra i nanti Suore il Viratuto lo esempio per tutta la nazione Premiata al Querinale Assunzioni dubbi e Greco porta le carte in procura Regione le multe per reati ambientali in favore dei borghi Reddito di cittadinanza da oggi al Via Le Domande Si prevedono a lunghe file presso gli uffici postali e i CAF Primari e PD all'Assemblea Nazionale vanno Veneziale Chierchia, Venitelli e Sposato Termoli, Fiat, l'amministratore delegato conferma il piano di investimento da 5 miliardi Poi c'è lo Sport con il Campobasso, Circelli Playoff dura ma non impossibile In ogni caso tenteremo il ripescaggio Agnone, Foglia, Manzillo suona la carica Ora 6 punti contro Sant'Arcangelo e Savignanese Eccellenza, il Termoli rilancia Ecco, Atanasio, Sputore, Soschi e Forino Grazia di Girolamo Ed ora le testate nazionali Il giornale, addio a un passo Toninelli licenziato Conte gli toglie il dossier in alta velocità E il Movimento 5 Stelle vuole farlo fuori Tagliani, TAV, chi perde apre la crisi di governo Parte il reddito, caos assoluto e aria di truffa L'ultima frontiera del trash in tv umiliare Indiretta il cantante di 70 anni Riccardo Fogli In lacrime all'isola dei famosi Conti sballati, DEF dimezzato Servono 30 miliardi Blitz grillino sulla legittima difesa Ma il provvedimento voluto dal centro-destra Dovrebbe passare oggi il voto alla Camera Fra social e realtà Show in piazza e poi chiedono più privacy Andiamo sul Corriere della Sera Reddito lite con le regioni Vertice con il Premier sulla TAV Lira di Salvini subito la decisione finale Oggi al via le domande Il rischio di resse il caso navigator Oggi alla Camera la legittima difesa Una cura per l'HIV con le staminali Il virus è sparito il trapianto su un londinese Rivive il sogno di Alba Chiara Uccisa due anni fa dal fidanzato Immostra i quadri della ragazza Il padre realizzo i suoi desideri La Repubblica Reddito di cittadinanza Tutto pronto per il via o quasi Oggi le domande a caffè poste Ma si rischia il caos Le regioni dicono no alle assunzioni dei navigator Il muro dei 5 stelle contro la TAV Salvini stasera si decide Legittima difesa passa alla Camera Cresce la fronda grillina Del Rio io con Zingaretti Renzi lo sento poco Ha scelto di farsi da parte Il retroscena resta il simbolo PD Niente listone unico per il voto europeo E dalla Repubblica Spostiamoci sul messaggero Reddito card solo per la spesa Da oggi le domande al via Rischio caos apposta ai caffè Solo uno su tre dovrà cercare lavoro Statale intervista La buongiorno Impegno a sostituire tutti i prepensionati Con quota 100 TAV Salvini decidere subito 5 stelle in tilt e Toninelli Ora minaccia le dimissioni Zingaretti e il piano autonomia giusta È tutto da rifare Roma va preservata Sisma Lo scandalo Macerie in strada Manca una firma Da Norcia Cascia La rimozione è sospesa Tonnellate di detriti Bloccano la ricostruzione Ultra e droga Genni la carogna Collabora Il capo tifoso napoletano È coinvolto in un traffico Di stupefacenti Il sole 24 ore TAV alla resa dei conti Trattative a oltranza Ieri vertice a Palazzo Chigi Stasera nuova riunione Con ministri e tecnici Conte Siamo in direttura Decisione entro venerdì No a pregiudiziali Lega e 5 stelle Pressing di Salvini Già oggi mi aspetto la scelta finale Chiedere più fondi All'Unione Europea A Milano Rinascimento immobiliare Da 10 miliardi Reddito Oggi si parte Rischio caos Alle poste In ordine alfabetico Lavoro Boccia Ridurre il carico fiscale Per aumentare i salari Andiamo in chiusura Con la gazzetta dello sport La caduta degli dei E il Real umiliato dall'Ajax E fuori dalla Champions Vittoria Shock Finisce 4-1 Il match Dopo 1011 giorni E tre trionfi Il Madrid Scende dal trono Roma A rischio Il passaporto Di Francesco Stasera alle 21 Il match Diavolo Che rialzo Valore della Rosa Terzo posto San Siro Sempre più pieno In sei mesi Le azioni del Milan Si sono rivalutate Banda Ancora all'attacco Dell'Inter Lautaro Dell'Europa Juve Le punizioni Di Pjanic E Dybala Sono l'arma in più Prima di salutarci Vediamo i programmi In onda oggi Sulla nostra rete A partire Dalle 11 Vox Populi 2 12.30 Viva la musica Alle 14 L'appuntamento In diretta Con l'informazione Alle 16 Torna la replica Di Vox Populi 2 Alle 18 Punto Verdi Alle 19 Salus TV Alle 19.30 Una nuova diretta Dell'informazione Alle 21 Vox Populi 2 Alle 23 L'ultimo appuntamento Col telegiornale È tutto anche per questa mattina Grazie come sempre Per averci seguito Vi auguro un buon proseguimento Di giornata Grazie a tutti